Hello children, ciao bambini, good morning, buongiorno, eccoci alla nostra prima video lezione d'inglese. Faremo delle cose semplici che già conosciamo così per ripassare e per tornare un pochino ad ascoltare e a scrivere in inglese. Iniziamo con i numeri. Faremo tutti i numeri da 1 a 20. Per iniziare prendete il vostro libro a pagina 8. La prima cosa da fare, anzi prima di iniziare vi dico questa cosa, il video voi potete metterlo in pausa ogni volta che ne avete bisogno e ascoltarlo un pochino alla volta. Ora, se avete preso il libro a pagina 8, andiamo ad ascoltare i numeri da 1 a 10 in inglese. Potete, l'esercizio lo abbiamo già fatto, controllare sul vostro libro la corrispondenza dei numeri e dei numeri scritti a parole. Iniziamo, buon lavoro! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, well done, va bene, ben fatto. Se non li avete ripetuti prima, potete ripeterli ora, a voce alta, mi raccomando. Quando abbiamo ascoltato, letto e ripetuto i numeri, andiamo nell'esercizio numero 13, questo dove c'è il mio puntino rosso ora, e andiamo ad ascoltare questa canzone. La conosciamo, è per chiedere quanti anni hai, ma tranquilli, ascoltiamo la canzone prima, poi dopo vi spiego meglio le parole. page 8. Listen, read, and sing. Happy birthday! How old are you? I'm seven! How old are you? I'm one, I'm two, I'm three, I'm four, I'm five, I'm six years old. How old are you? How old are you? I'm seven, I'm eight, I'm nine, I'm ten years old. Ok, how old are you? Andiamo a vedere insieme cosa significa questa frase. How old are you? Abbiamo detto, in inglese, questo l'abbiamo fatto anche a scuola, si usa per chiedere quanti anni hai. In realtà, se vi ricordate, abbiamo anche detto che in inglese queste paroline non significano quanti anni hai, ma significano quanto vecchio sei. Infatti, how vuol dire, scusate, prendo questo puntino rosso così lo vedete meglio, how vuol dire quanto, old vuol dire vecchio, are vuol dire sei, and you vuol dire tu. How old are you? Quanto vecchio sei tu? E andiamo a vedere come si risponde a questa domanda. Dobbiamo rispondere dicendo quanti anni abbiamo. In italiano diciamo io ho sei anni. In inglese, invece, si dice dove questa I, ricordatevi, questa I vuol dire, si legge I e vuol dire io. Questa M è questa parolina abbreviata con l'apostrofo che si legge am e vuol dire sono, six, sei, years, anni, old, vecchio. Quindi questa la nostra risposta sarà io sono sei anni, vecchio, I'm six, years, old. Chiaro fino a qui? Andiamo ad ascoltarci un'altra canzoncina per fissare questo contenuto. ma Chiaro fino a la I'm seven years old I'm seven years old How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? I'm six years old I'm six years old I'm seven years old I'm seven years old Ok And you? How old are you? I'm seven years old I'm seven years old I'm seven years old Ascoltate Osservate Qual è il numero corrispondente E come si scrive Il Ero 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 18 19 20 Ok, ricordatevi sempre che... Vediamo se riesco a farvelo vedere con un colore. Proviamo questo qui. 13 14 15 16 17 18 19 Si pronuncia Si pronuncia TIN, il finale, ma è scritto T E E N Questa doppia E Queste due E vicino si pronunciano come una I TIN Ok, andiamo avanti Well done, ben fatto Ora Tocca a voi Prendete il quaderno a pagina nuova e scrivete in alto il titolo Come l'ho scritto io sul mio quaderno Number From 1 To 20 Vi do un pochino di tempo per prendere il quaderno Ma anche se vado più veloce Voi potete mettere in pausa il video E farlo ripartire Più tardi Quando avete preso il quaderno Scritto il titolo Andiamo a vedere Insieme quello che bisogna Questa È come se fosse il mio quaderno con il titolo in alto Numbers from 1 to 20 Andiamo a vedere Cosa bisogna fare Innanzitutto Dividiamo La nostra pagina In due colonne Una colonna A sinistra Una colonna A destra Con l'aiuto del libro Con l'aiuto del quaderno Se vi ricordate a memoria Ancora meglio Nella Colonna di sinistra Andiamo a scrivere I numeri Da 1 A 10 E a fianco Scriviamo Il numero In lettere In inglese Nella colonna Di destra Iniziamo Con il numero 11 11 E facciamo la stessa cosa Scriviamo I numeri In cifra Da 11 A 20 E a fianco Scriviamo i numeri In lettere Per oggi È tutto Questo È il lavoro Che dovete fare Quando avete finito Di scrivere Questi numeri Insieme Ai vostri genitori Se riuscite Fate Una foto A questa pagina E la mandate Su classe viva Per ora Io Vi saluto Ciao